Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere la dima per la spinatura della Wolfcraft. Si trovano in commercio due tipi. La sola dima per la spinatura o quello che ho preso io, il kit completo. E ora andremo a vedere in che cosa consiste e come si utilizza. Ricordandovi per chi non l'avesse fatto ancora di iscrivervi al canale. In questo video vedremo soltanto una dimostrazione. Più avanti il prossimo video, spero che uscirà la prossima settimana. Lo metterò realmente alla prova costruendo qualcosa. Vi lascio un po' sulle spine visto il tema. Il kit si presenta con vari accessori. Abbiamo questa colla della Patex. La dima è una varia e propria che è composta da due pezzi. Questa è qui la parte principale e il battente che poi si monterà qui sotto, svitando queste due viti, come riscontro per riportare la misura. Poi vedremo come. Tre misure di spine. 6, 8, 10. Le relative punte. Qui troviamo gli stop di profondità per ogni punta. E questi marcatori. Fra poco vedremo come si utilizzano. Infine c'è una chiavetta esagonale che servirà poi per andare a bloccare lo stop sulle relative punte. La parte principale del jig, dicevo, è composta da due elementi. Andiamo a analizzare innanzitutto questo. Nella parte centrale sono evidenti i tre fori, che sono da 6, da 8 o da 10 mm. Troviamo questi cilindri in resina, sembra che sia resina, che serviranno per andare a far da battuta, quindi se dobbiamo utilizzare il 6, il 10 o l'8. C'è una scala millimetrata da questa parte per andare a regolare la profondità della battuta, in caso manualmente. cosa importante sono questi dentelli. Non so se riesco a farvi vedere queste linee qua, 1 e 2, che indicano perfettamente il centroforo delle tre misure. Anche in questo caso, durante l'utilizzo, vi andrò a far vedere l'importanza di queste linee qui. Di fondamentale importanza sono queste tre linee marcate al centro della dima, dove indicano il senso di battuta del pezzo da lavorare. Se dovessimo fare un foro da 6 mm su questa tavola, dovremmo far passare il pezzo in direzione di questa linea. Quindi praticamente così. In automatico, andando a battuta, siamo al centro perfetto del bordo del pannello. Se dovessimo utilizzare il foro da 8 mm, in questo caso utilizzeremo questa linea qui, quindi questa battuta, in questo modo. E anche in questo caso abbiamo il centro del bordo. Se invece dovessimo utilizzare il foro più grande, quindi il 10 mm, questo al centro, andiamo a metterlo così. Lo giriamo o in un senso o nell'altro, in questo caso non cambia nulla. E ci siamo riportati, anche in questo caso, il centro foro. Passiamo ora a creare qualche foro. Sto utilizzando le spine da 6, quindi punta da 6 e lo stop relativo alla punta da 6. Quando andiamo a fare l'aspinatura, ci segniamo una linea sulla spina che sia maggiore alla metà della spina stessa. Quindi se questo a occhio è il centro, noi la punta la dobbiamo far scendere qualche millimetro oltre quello che è la lunghezza della spina. Questo per evitare che se la spina fosse messa proprio precisa, anche con qualche millimetro errore, rischiamo che la giunzione non venga precisa, quindi non abbattuta, ma ci andrebbe a lasciare qualche millimetro di differenza. Quindi non proprio abbattuta, ma per causa dell'errore, qualche millimetro di differenza. Questo nel 90% dei casi accade anche a causa dello spessore che crea la colla. Quindi il millimetro in più che andiamo a lasciare è sicuramente agevola nella nostra lavorazione. Quindi inseriamo la punta all'interno del jig, poggiamo la spina sul jig stesso e ci fermiamo al segnale che abbiamo appena creato. Prendiamo lo stop e con la chiavetta secondale lo blocchiamo. E abbiamo così fissato la profondità del foro della spina. Quindi spina da 6, diagonale del 6, quindi prendo il mio pezzo da lavorare, appoggio andando in battuta con questi due dentelli, inserisco la punta, vado qualche millimetro indietro, do velocità e ho messo così la prima spina. Pressando la colla, grazie alla ziglinatura creata nelle spine, questa fuoriuscirà e farà presa così su tutta la lunghezza della spina e non soltanto sulla base. Andiamo a praticare un altro foro, quindi sempre con la diagonale del 6. Ed ecco qua, messe le prime due spine. Ora, dovendoci riportare questi due fori sull'altra fascia del legno, abbiamo la soluzione di utilizzare queste scanalature qua, già predisposte nel jig, oppure i marcatori che vi ho fatto vedere in precedenza, che si inseriscono nel foro creato e si mandano in pressione, quindi andranno a marcare il punto su cui vogliamo applicare la spina. un lavoro un po' meno preciso. E abbiamo qua i due segnali. Quindi in questo caso noi dovremmo regolare lo stop, forare questa parte e andare a aggiuntare. Piccola premessa, se lavoriamo su questa faccia del legno, calcoliamo che il foro non sia troppo profondo da andare a bucare l'altra faccia del legno. In questo caso si dovrebbe fare un foro più profondo. Ipotizziamo ora un'aggiunzione di piatto, quindi in questo modo. Come vado a lavorare? Dopo aver inserito la basetta, in questo senso di riscontro, sulla dima, vado a inserire la spina, lasciandola leggermente movibile, quindi regolabile, vado a inserire la spina da 6 nel relativo foro. Vado abbattuta sul pezzo che ho montato ora, quindi il riscontro, e lo serro. Ho così ricavato la profondità dal centro foro al bordo del campione che sto utilizzando. Quindi metto in riscontro i due pezzi, in questo modo così. Dietro deve stare il pezzo da copiare. Utilizzando la scanalatura che c'è sul frontale, in corrispondenza del foro e della spina che stiamo utilizzando, la vado a inserire in questo modo qui. Per comodità ti conviene sempre utilizzare un morsetto. E vado così a copiare il foro. E vado così a copiare il foro. Ed ecco qua l'aggiunzione. L'aggiunzione già di suo viene abbastanza solida, ma è necessario utilizzare anche della colla. Se provassi a tirare, si fa già qualche fatica comunque nello sganciare i pezzi. E se dovessi invece andare a fare un'aggiunzione di questo tipo, si parte sempre nello stesso modo. Regolando la basetta in corrispondenza della spina che stiamo utilizzando. In questo caso io l'ho già regolata per la prova che ho fatto poco fa. E infatti sono già abbattuta con la spina da 6 mm. La cosa che differisce della prima aggiunzione è la profondità della spina fra un pezzo e l'altro. Infatti lavorando in questo modo abbiamo la possibilità di fare entrare la spina un po' quanto vogliamo. Su quest'altro pezzo invece abbiamo il limite dello spessore del pannello. Quindi per intenderci, questo è un 18 mm, ci fermiamo a un 9 mm. Quindi vado a segnare la spina, almeno io faccio così, e segno la spina stessa, questa distanza qua. Lavoro comunque sul primo pezzo che mi dà più possibilità di regolazione. Inserisco la punta nel jig. Per calcolarmi la profondità della punta. Quindi Deve entrare. E ripeto l'operazione. Quindi vado a segnare, utilizzando l'afforo del 6, la battuta. Serro il pezzo. E anche in questo caso mi sono creato la misura esatta dal bordo al centro del foro. Per comodità ammorsetto i pezzi. E in questo caso non utilizzerò più questa scanalatura. Ma bensì questa, sempre in corrispondenza della spina che stiamo utilizzando. Quindi 6 mm, linea del 6 mm. L'appoggio così, in questo modo, e vado in battuta. E in questo caso ho già determinato la posizione precisa del foro da utilizzare. Ricordiamoci prima di fare il foro di cambiare la profondità della punta. Ed ecco fatto così questo tipo di giunzione. Se volessimo invece giuntarlo non a filo con il pannello, ma ad una misura prestabilita, ad esempio qui, come potremmo fare? Utilizzando le linee di riscontro del centro foro del jig stesso. Quindi, mi segno a una determinata distanza il punto in cui deve andare montato il pannello. Considerando che sarà il centro dello spessore del pannello. E allineo in questo modo il segnale della matita con questo dentello del jig. Per calcolare invece la distanza delle due spine, mi agevolo in questo modo. Metto il pezzo che devo aggiuntare in battuta. Utilizzo la scanalatura che c'è sul frontale del jig come punto di riferimento. Quindi in questo modo io sto creando misura della distanza delle due spine e la sua profondità grazie all'utilizzo delle tacche di misura sui laterali. Ho fatto il primo foro. Sposto il jig in corrispondenza dell'altra spina. Regolo la profondità. E provo il montaggio. E anche in questo caso il risultato è più che soddisfacente. Quello che mi ha colpito maggiormente di questa Dima è la sua precisione. Infatti dopo pochi utilizzi si diventa abbastanza pratici e sbagliare diventa veramente difficile. Le misure delle spine consigliate sono da 6 mm per pannelli che vanno da 12 a 14 mm. Da 8 mm di diametro per pannelli che vanno da 15 a 18 mm. Mentre per i pannelli con spessore superiore che vanno dai 19 a 30 mm è preferibile utilizzare una spina di diametro 10 mm. Sicuramente è un attrezzo che va a arricchire la strumentazione che ogni hobbista dovrebbe avere e poterci spingere oltre con la qualità dei nostri lavori. Ricordo ancora per chi non l'avesse fatto di iscrivervi al canale stiamo crescendo pian piano ma stiamo crescendo. Non mi resta che salutarvi ciao e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.